benvenuti ai racconti della strega vi trovate in un nuovissimo canale dove faremo molti viaggi nel mondo del mistero ci saranno racconti horror basati su fatti realmente accaduti storie e leggende incredibili dove il protagonista sarà sempre il mistero vi parlerò anche del meraviglioso mondo degli angeli e vedremo insieme se esiste la vita dopo la morte aspetto numerose le vostre iscrizioni e se avete piacere se anche voi siete stati protagonisti di situazioni inspiegabili fatemelo sapere e racconterò la vostra storia siete pronti a questi nuovi viaggi buona visione e soprattutto buona magia